C'è il rischio che saltino i 130 posti di lavoro assicurati dall'Accorfenix. I dipendenti dell'ex polo elettronico, infatti, sono da mesi ormai senza ammortizzatori sociali. A sottolineare la grave situazione dell'azienda che è a sede all'Aquila, anche alla luce del sequestro operato di recente dalla magistratura e dalla nuova perquisizione della finanza, sono il segretario della CISL della provincia dell'Aquila Paolo San Germano e il coordinatore FIM provinciale Giampaolo Biondi, che avvertono, apprendiamo che i vertici aziendali tramite i legali di riferimento hanno chiesto la revoca della misura, pur ammettendo alcuni errori procedurali dovuti alla complessità della legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti. Ma il timore, dicono i sindacalisti, che lo stop imposto dal sequestro dello stabilimento nel quale al momento operano solo 23 lavoratori, di cui 11 provenienti dall'ex polo elettronico e 12 neoassunti, possa far sfumare l'intera operazione concordata con le organizzazioni sindacali. La Corfenix, sottolineano i due sindacalisti, a gennaio avrebbe dovuto dare il via al piano di riassunzioni, che prevedeva il reintegro entro giugno di 60 lavoratori, per arrivare gradualmente nel prossimo bienio a coprire la pianta organica con 129 assunzioni. Se dovesse saltare l'intera operazione, annunciano i sindacalisti, per le maestranze dell'ex polo elettronico, che da circa un anno non percepiscono alcun sussidio, non ci sarebbe possibilità di reinserimento nel ciclo produttivo. La CISL rivolge così un appello alla Regione, che, a fine dicembre, avrebbe dovuto riunire un tavolo di concertazione con l'azienda e i sindacati. Al momento, concludono i sindacalisti, non abbiamo notizie. Sollecitiamo la Regione ad attivare un confronto immediato sulle sorti dell'azienda e dei lavoratori, visto che a marzo prossimo scadranno anche le ultime mobilità.